Io dico la verità, io ci credevo al fascio. Testimonianza di Giovanni Tolosano, nato a Marmora, frazione Tolosano, classe 1889, contadino e bottaio. Mio padre era della classe 1849, era nato al colle San Giovanni di Canosio, era povero, aveva il mestiere da fabbricante di mastelli, tutti gli inverni andava in Francia, lavorando riusciva a comprare un po' di terra, tutti gli anni con i risparmi della Francia faceva uno strumento, ne ha fatti 15 strumenti, un pezzetto qui e un pezzetto là. Poi ha insegnato anche a me ad andare in Francia, avevo 11 anni e mi ha portato con lui. Si partiva al principio di ottobre e si tornava alla fine di aprile. Andavamo a lavorare nelle tre vallate, Tine, Vesubi e Delvar. Guadagnavamo 1100-1200 lire, tutte in marenghi d'oro. Tanti di Canosio andavano in Francia a fare i mercanti di stoffa o i bottai. Da Marmora andavamo a fare i fabbricanti di basti e i sibre. Noi quando guadagnavamo 4 lire in un giorno era già tanto. Camminavamo, i nostri piedi sotto erano come la toma, bianchi, bruciati. Passavamo da Servagno, Sambuco, Santa Anna, Colle della Lombarda, Isola, con i ferri sulla schiena, carichi come asini. Mio padre ha fatto 45 anni questa vita e io 11 inverni. Un anno, era il mese di aprile, la bufera ci ha sorpresi nel ritorno, sopra Sant'Anna di Vinadio. Una cresta di neve ha ceduto, io e mio padre siamo caduti giù. Mio padre ha perduto il portamonete, con le 1300 lire dentro, tutte le economie e risparmi dell'inverno. Io avevo 15 anni. Abbiamo cercato per ore e ore il portamonete nella bufera, nella neve, tutti e due a piangere, a cercare con le mani che gelavano. Poi l'abbiamo trovato, ci siamo abbracciati e baciati. Erano le 9 del mattino, abbiamo camminato fino alle 9 di notte. Eravamo stanchi morti, non abbiamo più visto le case di San Bernolfo dalla stanchezza. Ma allora c'era la miseria. Si viveva a pane di segala. Quel pane non era ben cotto e ammuffiva. Per farcelo mangiare ci dicevano, questo pane vi fa trovare i nidi nel bosco. A tagliarlo quel pane con il tayun, tubava, fumava, faceva polvere. Latte non ne vedevamo mai. Serviva a fare la domanda. Non ho mai toccato un uovo. Mio padre era molto avaro, metteva tutto da parte. Del suo guadagno non spendeva un soldo. Era così che riusciva a comprare la terra, per la grande economia che faceva. Beh, ce n'era gente che faceva ancora più miseria di noi. Da Ceglio venivano i calzolai ad aggiustare le scarpe. Passavano da una famiglia all'altra. Trenta soldi al giorno e mantenuti. Nel 1915 sono partito per la guerra, con il trentaduesimo fanteria. Ci hanno portati oltre Udine, al fronte. Là un reggimento era stato decimato. Eravamo disperati. Siamo arrivati in un bel posto, ci dicevamo, e le gambe tremavano. Siamo andati all'arma bianca. Un austriaco con un colpo di fucile mi ha rotto la baionetta. Allora ho buttato via il fucile. Ho preso quell'austriaco per il collo, ma era un uomo forte. Sono stato un bel momento per perdere. Poi l'ho rovesciato su un fianco. È passato il mio amico fantone. Allora gli ha sparato un colpo in testa. Gli austriaci a noi non ci avevano mica fatto niente, ma i nostri comandi ci facevano andare. Prima degli assalti ci distribuivano l'anice e partivamo sempre un po' storditi. Un'altra volta, era il 21 ottobre 1915, alle 10 del mattino il capitano ha tirato il sorteggio. Quale dei quattro protoni della compagnia doveva uscire per primo? Il nostro tenente era ricco, con un bello orologio e gli anelli di diamanti. Ci dice, se muoio non lasciate poi che gli austriaci mi prendano l'orologio e gli anelli. Esce per primo e cade morto. Esce il sergente maggiore e va avanti. Esce il sergente e cade morto. Esce il primo soldato e cade morto. Esce il secondo soldato e cade morto. Adesso tocca a me. Sono tutto agitato. Mi preparo bene. Salto fuori dalla trincea. Vado avanti tra le pallottole. Poi mi stendo dietro a una piccola pietra. Per forza uscire dalla trincea. Il maggiore era là con la rivoltella puntata che ci obbligava a uscire uno dopo l'altro. Sono dietro alla piccola pietra quando sento un colpo nella spalla e poi un altro colpo nel piede. Oh povero me. Sono fottuto. Mi dico. Sto lì. Ben disteso perché le pallotto le fischiano. Sono su un punto un po' defilato in un avvallamento. Era lì il gabinetto della compagnia. Ho la faccia proprio dentro a una merda. Ho la faccia coperta di mosche. Sono tutto nella merda. Ma non mi muovo. Tre ore resto lì senza muovere. Sento che urlano. Urrà urrà. Vanno all'assalto. Sento il sangue alla spalla e al piede. E resto tre ore sempre lì con la faccia nella merda. Con il buio tento di trascinarmi all'indietro. Il terreno è coperto di morti. Saranno più di duecento i nostri morti. Mi trascino fino alla trincea. Vedo una bottiglia. Bevo e urina. La trincea è vuota. I nostri sono tutti fuori. Avanti o morti o vivi. Hanno conquistato la trincea degli austriaci. La gamba destra gonfia a vista d'occhio. Continua a perdere sangue. Arriva un portaferiti. Gli chiedo di aiutarmi. Mi risponde. L'ordine è di portare giù solo i morti. Hanno paura che puzzino i morti. Vogliono sotterrarli. Poi arriva un colonnello. Cammina lungo la trincea. Impugna una rivoltella. Va a vedere se ci sono soldati nascosti. Mi vede. Grida. Cosa fate qui? Signor colonnello. Sono ferito. Fate il favore. Fatemi portar via. Non possiamo. Aggiustati come puoi. L'ordine è di recuperare solo i morti. La guerra è così. Se non ci fossero gli ordini severi scapperebbero tutti. Allora mi trascino giù rotolando lungo la montagna. Sono tutto insuppato di sangue. C'è più di un chilometro dal posto di medicazione. È tutto a pietre, a scalini, a salti. Rotolo. Un po' resto intontito. Poi riprendo a rotolare. Infine faccio un salto di quattro metri. E cado come un morto proprio al posto di medicazione. Un tenente medico ordina di medicarmi. Mi bendano alla meglio. Resto lì su una barella fino all'indomani. Poi con la barella mi portano a Plava. Due chilometri più in basso. A Plava concentrano i feriti alla stazione ferroviaria. Lì ci sono anche i pezzi di artiglieria. E i nostri ci hanno messo sopra la croce rossa. Ma gli austriaci se ne accorgono. incominciano a bombardare. Noi feriti saremo 300 tutti ammucchiati. Ne restiamo vivi 34. Nella notte ci portano verso Florian. Poi arriviamo a Udine, nel campo contumaciale. Saremo 5000 adesso i feriti. In uno stanzone al primo piano sono 7-8 i medici che operano. C'è anche il dottor Lerda di Torino. C'è una finestra spalancata e sotto nel cortile c'è un camion. I medici tagliano braccia e gambe e le buttano dalla finestra. Le buttano sul camion perché non puzzino. La mia gamba è sempre più gonfia. Nessuno si cura di me. Dopo 5 giorni mi trascino al posto di medicazione. Mi guardano se no morivo. Finita la guerra torno alla mia solita vita borghese. Nel 1921 con la moglie e i due figli parto per l'Argentina. Devo raggiungere Bergamina nella Pampa. Dietro alla macchina a vapore a fare la Cuseccia. Ho pagato 1600 lire del viaggio con la nave indiano. A Dakar sulla nostra nave scoppia il colera. Ne muoiono 45. I morti li buttano ai pesci. La nave viaggia solo a 12 nodi per paura delle mine galleggianti. 21 giorni di mare e poi 15 giorni di quarantena a Buenos Aires. Mia moglie è malata. Devo mandarla in qua con i figli perché in Argentina muore. Non ho i soldi per il loro viaggio di ritorno. Lavorando rimedio i soldi. La saluto quando parte. È come morta. La vedo che mi saluta dalla nave con il fazzoletto bianco. Mi siedo su un mucchio di ghiaia e avrò pianto un'ora di seguito. Vedete se la mia vita non è bella? Rimango in Argentina fino al 1925. Poi torno a Canosio e c'è il fascio. La gente è contro il fascio. Sono quasi tutti i contrari. Io dico la verità. Io invece ci credevo al fascio. Siamo 5 o 6 i fascisti e facciamo la donata e diventiamo 15 o 20. Il capo è il medico di marmora. Parliamo di aiutarci uno con l'altro. Di volerci bene tra di noi. Ma nel 1940 arriva la guerra. Io ho fatto il potestà dal 1940 al 1945. I partigiani volevano fucilarmi. Un periodo brutto dal 1943 al 1945. I partigiani hanno il comando alla Margherita. Vanno per la montagna. Se vedono i tedeschi scappano. Fanno saltare i ponti. Portano via le bestie. Un giorno arriva uno di Acceglio a dirmi mi dispiace ma sono venuto ad ammazzarvi. Interviene un certo Bressi. Un capo dei partigiani. E mi salva. Qui i partigiani hanno preso sette bestie da basto. Sette muli. Vacche non ne hanno prese. Ma prendevano i formaggi e i margari. Qui venivano anche i repubblicani. Se rubavano. Loro non rubavano. Loro erano della legge. Venivano per far rispettare la legge. Come potevano rubare? I repubblicani erano della legge. Non avevano mica bisogno di rubare. Hanno solo bruciato cento case. Cento baite. Perché i partigiani ci dormivano dentro. Hanno bruciato anche una mia grangia. E quello che ho visto io. Alla fine della guerra il 25 aprile ero su nei campi che lavoravo. Sono arrivati sette partigiani con i pantaloni corti armati. Mi hanno portato ad Acceglio poi a Dronero. A Dronero qualcuno mi conosceva. Mi chiedeva. Dove vai Tolosano? Vado al mattatoio. I partigiani non mi hanno maltrattato. Uno del Preit Giordano invece l'hanno fucilato. Poi mi hanno portato a Cuneo nel campo di concentramento. Lì ero libero con gli altri. Parlavo. C'erano diversi amici. Segretari. potestà. Tanta gente nobile. Capi. Presidenti. Ufficiali. Il più indietro ero io. Il 3 maggio dal comando americano è arrivato l'ordine di non più ammazzare se non i processati. L'abbiamo saputo subito. Quel 3 maggio è il giorno più bello della mia vita. Dopo cinque mesi, il 7 ottobre, mi hanno processato a Cuneo. Chi mi aveva dichiarato colpevole non si è presentato al processo. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto. Io ho sempre pensato che il fascismo ha fatto anche del bene. Prima del fascismo anche gli altri avevano fatto niente a favore della gente di montagna. Noi credevamo nella forza dei tedeschi. Poi è l'America che ha deciso tutto. Che cosa sono oggi? Oggi sono della democrazia cristiana dove prendo un padrone e lo servo. E lo servo con fiducia. Grazie. 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 Grazie.